bene ragazzi vediamo i compiti dove sono lo sapevo eh prof io i compiti li ho fatti ma me li hanno rubati gli alieni ma non era meglio la scusa del cane sì i mogli alieni vengono da te silenzio alieni marco hai proprio una bella fantasia prof vi giuro hanno rubato anche i miei libri vabbè vai a posto me li porterai domani grazie a tutti 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 Sei bravissimo. Non hai bisogno di aiuti alieni. Devi solo credere un po' in te stesso. Sì, prof. Lo farò. Ma i miei non sono verdi. Sono blu. Blu come quelli di Avatar. Un giorno potresti essere anche un bravo scrittore. Un giorno potresti essere anche un bravo. Un giorno potresti essere anche un bravo. Un giorno potresti essere anche un bravo.